Sono passati 31 anni dalle stragi mafiose di Capaci e Via d'Amelio e nel luogo dove avvenne l'esplosione del 23 maggio del 92, ora sorge un giardino sul quale sono coltivate varie piante di olivo. Questa mattina il dono simbolico da parte del questore di Piacenza Ivo Morelli al vescovo Monsignor Adriano Cevolotto dell'olio prodotto con quelle piante. Si tratta della consegna di un olio che è frutto purtroppo di una terra che ha visto del sangue, siamo al 31esimo anniversario della stragi di Capaci, su quelle terre in cui si è versato del sangue dello Stato sono state piantumate degli ulivi, ulivi che già l'anno scorso hanno dato frutti che sono stati poi benedetti e utilizzati dalla Diocesi Palermitana. Quest'anno lo facciamo a livello nazionale e la Diocesi ha accettato la consegna di questo piccolo segno. L'olio del Giardino della Memoria di Capaci sarà inserito nel crisma che verrà benedetto dal vescovo alla Messa Crismale del Giovedì Santo 6 aprile in Cattedrale. Questo olio che è stato consegnato, donato a tutte le diocesi d'Italia per noi vorrebbe diventare parte integrante di quelli che sono i segni della liturgia. L'olio viene usato in molti sacramenti e questo verrà mescolato all'olio che normalmente usiamo, quello che le terre padane ci offrono, cioè il frutto del lavoro dei nostri contadini e dei nostri ulivi, per dire che dentro alla liturgia, dentro ai segni attraverso i quali il Signore si rende presente, c'è anche la vita di chi appunto l'ha donata per il bene di tutti. Grazie. Grazie. Grazie.